Naturalmente la coppia indivisibile dal Matis di Bologna, Ricky Forni e Ricci DJ qui sulle vostre televisioni prontissimi per nuove tracce, nuovi dischi, nuovi track, nuova progressione musicale ed andiamo a vedere le nostre nuove tre tracce di quest'oggi che sono tutti assolutamente promo e sono la prima Thomas Schumacher che sembra, no ma non è lui, e che presenta Schilford Road Psychedelic Experimentation Psychedelic for Thomas Schumacher Experimentation Psychedelic Experimentation Experimentation Eccerno 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 E dopo experimentation psychedelic entra all'interno di Energy Sound la seconda traccia di oggi che è Attila Club Telephone Are you ready for? Attila! E dopo Attila sta mixando Richie DJ e si sente ed entra Wave Rider! Wave Rider for Harder Life Terza traccia di oggi all'interno di Energy Sound E' un'interno di Energy Sound finisce qui anche per quest'oggi l'appuntamento è venerdì prossimo questa sembrava una telemedita meravigliosa e invece no è ancora Match Music Machine e ancora sarà venerdì prossimo qui con voi Richie DJ e Enrique Forni ciao ragazzi Bye!